Bene ragazzi, spero di riuscire a fare una diretta decente, ma ci tenevo ad aggiornare tutti i follower, tutti i sostenitori e a darvi informazioni di prima mano su quello che sta succedendo qua. Mi perdonerete se mi vedrete piangere durante questa diretta, ma sono stati dei giorni pesantissimi e voglio aiutarvi a capire la complessità della situazione qua e perché quello che tutti voi con grande generosità ci state chiedendo, cioè di spedire qui mangime e altro materiale, è in questo momento per quanto ci riguarda totalmente inutile. Cerco di spiegarvi un po' quello che abbiamo fatto ieri e l'altro ieri e quello che abbiamo capito. Prima di tutto io vi parlo dal sud-est della Romania, come forse sapete Save the Dogs è qua nel sud-est da vent'anni. Siamo a circa 60 km dal Mar Nero, dal porto di Costanza e siamo a due ore e mezza di macchina dal confine con il sud dell'Ucraina. Le notizie che voi vedete sui rifugiati sono più di 150.000 che arrivano dall'Ucraina e le notizie le vedete da due punti di frontiera, quelle che vi dà la stampa. Quello al nord che è Siret, la zona di Suceava, dove il grosso delle persone sta arrivando, il grosso delle associazioni umanitarie si trova e dove ci sono anche alcune associazioni per la protezione degli animali. Noi di Save the Dogs siamo alla frontiera di Isakcia, che è la frontiera fluviale, quindi è un punto in cui c'è un porto fluviale rumeno e dall'altra parte c'è un porto fluviale ucraino, che dà sulla regione a sud di Odessa. Noi siamo a due ore e mezza da questo punto e abbiamo passato ieri e l'altro ieri cinque di noi del team di Save the Dogs, che è qua fisso, abbiamo passato l'intera giornata sulla frontiera rumena. Cosa abbiamo fatto? Siamo andati lì con materiale da dare alle persone, ai rifugiati che arrivano con i loro cani e i loro gatti, con informazioni su come partire con i propri animali per altri paesi europei, quali documentazione serve e anche con informazioni tipo se non potete proseguire il viaggio col vostro animale, potete affidare il cane e il gatto a Save the Dogs temporaneamente o definitivamente. Il primo giorno siamo andati lì l'altro ieri senza sapere cosa avremmo trovato e abbiamo visto che ogni due o tre ore arrivano queste chiatte con un certo numero di tir dall'Ucraina, con un certo numero di macchine, tutte macchine devo dire di persone molto benestanti e con l'altro ieri circa 200 persone che arrivavano a piedi ogni volta. E venerdì sono arrivati durante la giornata una quindicina di animali che abbiamo assistito in vari modi, dando soprattutto cibo, trasportini, pampers. Sono arrivate svariate centinaia di persone, però diciamo che la maggior parte delle persone che abbiamo visto non erano, non tutte almeno, ce ne erano molte abbastanza non scosse, non traumatizzate, erano persone molto ben vestite, che avevano magari anche molte persone che le aspettavano qua e li portavano via, poi ci sono dei pullman che smistano gruppi di persone che non hanno collegamenti e le portano nelle varie città rumene. Noi ci siamo messi sostanzialmente dopo la dogana rumena in una zona dove tutti i profughi poi passano e abbiamo distribuito questo materiale. Abbiamo capito però che al di là dell'assistenza a queste persone, che è preziosa e importante, la vera emergenza è in Ucraina. Abbiamo preso contatti con grande fatica per i problemi linguistici con due strutture di Odessa, di cui una è una struttura che credo si chiami Best Friends, perché ho delegato questa parte a un collaboratore, al nostro nuovo direttore generale, e poi c'è una struttura di una ragazza che si chiama Ludmilla. Abbiamo preso contatti con loro, essendo sostanzialmente a tre ore e mezza, quattro da noi. E loro ci hanno detto di avere in un caso due settimane di autonomia di cibo, in un altro caso quattro settimane di autonomia di cibo, dopodiché non hanno più modo di approvvigionarsi. In più da Odessa ci dicono che i randaggi che venivano sfamati dai volontari, dalle persone normali, dagli operatori dell'associazione, i randaggi stanno morendo di fame. E quindi ci hanno chiesto di mandare quanto più mangime possibile. Il primo giorno abbiamo preso le misure, abbiamo dato assistenza a rifugiati, abbiamo cercato di capire se c'è un caos a questa frontiera. Vi potete immaginare quando arrivano queste fiumane di persone, è tutta una mobilitazione anche molto caotica. Quindi il primo giorno è stato un giorno di assestamento, abbiamo preso un po' di contatti lì, abbiamo cercato di farci accettare, di far accettare la nostra presenza. Ieri è stata una giornata più fruttuosa, con una pressione che non vi dico, pazzesca, perché io a quel punto sono entrata e sono andata a cercare la direzione della dogana rumena per capire come mandare dall'altro lato il mangime per i cani e i gatti. Io vedevo arrivare questi tir vuoti che venivano caricati di materiale umanitario, da due punti, un punto che è lì al porto e un punto che è nella città. Ma avevo bisogno di capire chi li manda, li mandano le associazioni. Insomma, dopo ore al freddo parlando con la polizia di frontiera, con la direzione della dogana, abbiamo capito che le grandi agenzie umanitarie, l'UNHCR, la Croce Rossa, si stanno concentrando con i convogli che passano da nord, quindi da Siret, dall'altro punto di frontiera. Lì la frontiera sud, che è più piccola per il semplice fatto che passando le persone sulle chiatte, il numero di persone che arriva è più limitato, però tenete presente che dall'altro lato del confine, sulla sponda ucraina, ci sono chilometri e chilometri di code e di gente al freddo che aspetta in fila anche con anziani, con bambini in braccio, con neonati, che aspetta anche giorni per passare, perché queste chiatte per caricarsi, per i documenti, ci si mette due ore a caricarle, due o tre ore. Quindi in realtà la traversata dura cinque minuti, ma per caricare di persone e di mezzi queste chiatte ci vogliono due o tre ore. Quindi cosa succede? Dall'altra parte, vi dicevo, le agenzie umanitarie, i TIR con tutto quello che va a nord e passa dal confine polacco, sono concentrate a Bucharest. I TIR che partono da qua sono organizzati dalle autorità rumene, quindi dalle cittadine più grandi o più piccole di questa zona della Romania, che sono in collegamento con le autorità regionali e municipali dell'Ucraina e che raccolgono beni di prima necessità in base alle richieste dei sindaci di queste città che iniziano a non avere più cibo, a non avere più niente e con questi TIR che sono guidati da volontari, da camionisti volontari, per lo più ucraini, ma c'è anche qualche rumeno, vengono caricati lì al porto e vanno dall'altra parte. A seconda della situazione di sicurezza, arrivano più o meno verso nord, verso nord, scusate, sempre rimanendo a sud, però ad esempio già ieri non c'erano TIR che andassero ad essa, perché la minaccia di un attacco ad essa è troppo elevato. Quindi ieri che cosa siamo riusciti a fare? Ieri mi avete visto felice che su Facebook annunciavo che riuscivamo a far partire 650 kg circa di mangime, che comunque era qualcosa, con un convoglio che sarebbe umanitario, che di 20 tonnellate, che domani mattina sarebbe partito e che avrebbe raggiunto una cittadina a 85 km a sud di Odessa. Nel frattempo abbiamo saputo, stamattina abbiamo avuto la conferma che il convoglio partiva, io non vi dico per organizzare questa cosa trovare un autista che parlasse rumeno, tra l'altro persone alcune veramente fantastiche, stamattina ce la conferma, domani mattina ci vediamo alle 7 in Dogana, addirittura chiediamo e diciamo, ma se vi portiamo altri 700-800 kg di mangime, possiamo caricare anche quelli? Sì, portateli! Quindi stamattina gioia, gioia perché era un risultato importante per noi, abbiamo avvisato i ragazzi di Odessa, i due canili, erano pronti tutti e due con i loro autisti, i loro volontari, ad arrivare in questa cittadina a prendere questa tonnellata e mezza, che comunque avrebbe permesso di sfamare i randaggi di Odessa e di dare più ossigeno a queste due strutture. Dovendo andare domani a portare questo altro carico, abbiamo deciso, perché oggi dovevamo riorganizzarci, a parte prendere fiato perché siamo stravolti, io non ho dormito assolutamente, stanno la notte scorsa e stiamo lavorando 15, 16, 17 ore al giorno. Questo pomeriggio decidiamo di caricare questo furgone con materiale aggiuntivo, di saltare su un altro furgone e di andare a Costanza a comprare trasportini, cibo umido, sacchettini piccoli di mangime, perché i rifugiati non possono portarsi dietro i sacchi da 10 kg a 20 kg, ci chiedono piccoli sacchetti e scatolette di umido. Andiamo a Costanza, stiamo facendo questi acquisti, siamo andati a comprare anche un grosso, abbiamo speso 2000 euro oggi, un grosso tendone molto rigido per cercare di iniziare a stoccare la roba nella nostra struttura, perché poi vi parlerò di nostri problemi di stoccaggio. Stiamo facendo tutte queste cose e arriva la notizia che l'autista che domani doveva partire con il carico umanitario e con il mangime non può più partire domani mattina, perché tutti gli aiuti umanitari che erano destinati a questa cittadina, in particolare alimenti e latte in polvere per bambini, perché le autorità mandano la lista di quello di cui c'è carenza, di quello di cui c'è bisogno e le autorità rumene devono caricare il tir con quello che la municipalità chiede. Insomma, le cose che erano state chieste dovevano essere pronte, non risultano pronte. Quindi domani il nostro cibo non parte. E vi dico la verità, quando è arrivata questa notizia, perché ogni giorno che passa le probabilità che riusciamo a far arrivare questo mangime a Odessa diminuiscono. Quindi questa notizia ci ha buttato, ci ha veramente tagliato le gambe. Quindi noi domani avremo una riunione operativa di emergenza qua. Voi vi potete immaginare, noi abbiamo una struttura che già ha un'operatività molto impegnativa, adesso parti del team si stanno occupando di questa emergenza, ma noi vogliamo creare un presidio fisso a questo porto, dove la situazione non può che peggiorare nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, quindi potrebbero arrivare anche molti più animali di quelli che abbiamo visto finora. E quindi domani dovremo decidere come organizziamo questo presidio fisso, non possiamo andare avanti e indietro, dobbiamo avere una base in un alberghetto, in una pensione, con delle persone che si danno i turni, se vengono dei volontari dobbiamo essere in grado di gestirli, di coordinarli, noi non abbiamo uno staff dedicato a una situazione emergenziale come questa. Quindi noi dobbiamo capire da un lato come ci organizziamo per essere fissi a questo porto per alcune settimane perlomeno, quindi anche che furgone dedicare, eccetera. L'altra cosa domani è dobbiamo capire come poter stoccare quantitativi importanti di mangime che voi ci offrite dall'Italia, che alcune fondazioni e organizzazioni internazionali ci offrono, ma noi non abbiamo un hangar a Cernavoda dove stoccare la roba. Noi abbiamo dei container e un magazzino interno alla clinica, due magazzini che sono totalmente pieni di cose dei nostri animali, io vi ricordo noi abbiamo un canile con oltre 100 cani, abbiamo una clinica con 60-70 cani ricoverati, abbiamo 50-60 gatti, quindi noi non abbiamo un magazzino dimensionato per un'emergenza. Per questo non vi stiamo dicendo mandateci mangime, perché se noi mettiamo il mangime sul prato davanti alla clinica, qua sta nevicando, piove, è umido, c'è il fango, cosa facciamo? Vi prendiamo in giro. Quindi siamo contenti se voi riuscite a mandare ad altre organizzazioni che hanno la certezza di mandare dall'altra parte delle cose. Finché noi non abbiamo modo di stoccare grossi quantitativi, non vi chiederemo di mandarci cibo, vi chiederemo di mandarci altre cose e domani vi faremo una comunicazione e adesso vi dico anche dove mandare eventualmente, se volete rimanere aggiornati, dove scrivere, chi contattare. Vi chiederemo altri materiali più leggeri, più stoccabili e che utilizzeremo per i rifugiati in maniera continua. Non ve li anticipo perché vi daremo proprio una lista precisa, poi chi vorrà pagare magari il link su Amazon ci arriverà la roba direttamente a Milano, chi invece vorrà proprio acquistarli e spedirci, li spedirà a Milano. Noi abbiamo anche un problema di stoccaggio a Milano, perché noi a Milano abbiamo due garage che sono pieni, quindi noi adesso dobbiamo cercare una sistemazione a Milano e faccio un appello con questa diretta, magari se c'è qualcuno, possibilmente nella zona nord-ovest di Milano, che ha degli spazi, uno spazio di deposito in cui possiamo mettere palle di cibo e di altro materiale, ci sarebbe di grande aiuto, perché altrimenti noi dovremmo cercare di affittare questo posto, siamo anche disponibili a affittarlo, però questa è una delle cose su cui domani, in questa riunione operativa che durerà tutta la mattina e coinvolgerà anche lo staff di Milano, non solo lo staff qua, dobbiamo organizzare. Quindi potenziare le capacità di stoccaggio a Milano per poter ricevere lì le cose che non possono arrivare direttamente in Romania. Attrezzare qui, stiamo cercando di capire le tende della protezione civile, le tende militari, non si trova niente, abbiamo già chiamato vari fornitori per allestire delle grandi tende impermeabili davanti alla clinica, dove poter stoccare grandi quantitativi di cibo, che poi partono però in questa maniera, se partono, in una maniera assolutamente imprevedibile, quindi magari stanno sotto le tende due giorni, magari un giorno, magari una settimana, perché siamo in guerra. E quindi non c'è certezza su nulla. Quindi noi dobbiamo, io vi chiedo perché io ricevo tantissimi messaggi anche sul mio telefono che mi fanno stare male perché io non riesco a rispondere a tutti, mando degli audio. Ecco, l'appello che vi faccio è scrivete a info.sapethedogs.eu noi ci stiamo organizzando a Milano per cercare di dare risposte a tutti, ma ve le vogliamo dare certe, non vogliamo prendervi in giro. Mi è spiaciuto, mi ha chiamato qualcuno mentre ero alla frontiera l'altro ieri, che si è risentito perché io non ho dato subito istruzioni di dove mandare la roba e questa persona era un po' nervosa. Io non posso dirvi di mandare la roba allo sbaraglio. C'è un'altra associazione molto brava, Casa Lupatrocle, che lavora a Nord, ma anche loro sono sommersi di cose. Io non posso dirvi mandate lì alla cieca perché le cose vanno fatte bene, se no prendiamo in giro le persone. Quindi mandate a infochiocciolasapethedogs.eu che tipo di aiuto potete dare. Noi stiamo creando un database sia di persone fisiche, sia di associazioni, raccogliendo queste disponibilità. Non ho parlato del discorso cani. Allora, se non riusciamo a mandare il mangime di là, perché nessun convoglio, cioè nessuno di noi può andare dall'altro lato, perché non ci sono le condizioni di sicurezza. E nemmeno può andare chi vuole, cioè possono andare i convogli umanitari autorizzati dalle autorità ucraine e rumene. Figuratevi se possiamo andare a prendere gli animali o far arrivare gli animali. Ora, noi abbiamo detto a queste due strutture di Odessa se riuscite a evacuare gli animali e a portarli al confine, noi veniamo al confine fluviale, li prendiamo, allestiamo delle tendopoli qua davanti, perché noi più di tanto spazio non abbiamo, ma loro ci hanno detto noi non usciamo dai canili, qua è pericolosissimo, cioè qui bombardano da un momento all'altro, quindi noi stiamo qui con i nostri animali sperando e pregando di sopravvivere. Quindi, in questo momento gli unici animali che possiamo accogliere sono quelli dei rifugiati che arrivano e che ci dovessero chiedere di riceverli, ma finora tutti hanno voluto proseguire con i loro animali. Chi è arrivato fin qua il suo animale se lo porta con sé. E abbiamo ricevuto grandi sorrisi da bambini felici di ricevere il cibo, un collare, un guinzaglio, una pettorina, una ciotola, un trasportino, quindi comunque questo è un lavoro, è una cosa utile, è una cosa preziosa. Ma in questo momento i cani da là non ne arrivano evacuati, perché Odessa è comunque credo a un'ora, un'ora e mezza dal confine e nessuno si sposta, nessuno si muove, tranne questi autisti dei convogli umanitari. Tra l'altro io ho parlato con la polizia di frontiera e mi hanno detto che alcuni convogli umanitari sono stati fermati, non si sa bene da soldati di che parte, eccetera, gli è stato intimato di mollare tutto e questi hanno abbandonato i tir in mezzo al nulla, quindi in realtà noi non abbiamo neanche la certezza che caricando quel tir poi queste persone uno arrivino vive, cioè che gli autisti che conosciamo con cui parliamo arrivino vive, noi non lo sappiamo e due non sappiamo neanche se il carico andrà a destinazione. Quindi questo è per dire che c'è una situazione di un'incertezza totale, quindi voi che, tutti quelli che mi chiedono informazioni precise non le hanno neanche le autorità di frontiera, tra l'altro ci sono voci di frodi, ci sono voci di ditte, perché noi stiamo anche valutando e faremo delle telefonate, cercheremo di capire se ci sono delle ditte di trasporto private che si prendono il rischio di mandare dall'altro lato il proprio autista. E siamo disponibili a pagare quel che serve per mandare di là anche delle tonnellate di cibo, però sembra che ci siano state molti casi diversi casi di frodi, di ditte che hanno preso il carico sono andate di là, hanno fatto perdere le loro tracce e che hanno fatto rivendere sul mercato nero le cose. Quindi noi vogliamo la sicurezza che se mandiamo non vorremmo rischiare di fare una fatica infinita per mandare di là delle cose e poi non arrivano. Quindi ecco io vi ho vi ho un po' aggiornato, vi ho dato le informazioni che ho, ieri ho parlato con Rai 2, non so quando andrà in onda l'intervista, ho parlato con la televisione turca, ieri c'era Al Jazeera, oggi ho parlato con Euronews ma solo al telefono uscirà un articolo in cui io racconto quello che stiamo vedendo qua. Ci sono, c'è una piccola tendopoli che accoglie che accoglie le persone che hanno subito violenze o che hanno o che hanno vissuto delle situazioni estreme vengono assistite da tre associazioni la Croce Rossa Save the Children e un'organizzazione americana che io amo particolarmente li ho conosciuti lì che si chiama Adra Adra.org è un'associazione americana che aveva un gruppo attivissimo di volontari operatori rumeni ma anche di altri paesi e loro sono venuti da noi e ci hanno detto noi ci occupiamo delle persone fragili che vengono messe in queste tende dove nessuno può entrare la stampa non può entrare nessuno può andare ci chiedono alcuni hanno animali ci chiedono cibo quindi noi non possiamo entrare in queste tende che sono persone che hanno subito violenze di vario tipo o hanno visto delle violenze o hanno perso dei cari e sono in uno stato psicologico di trauma insomma quindi loro sono venuti loro che sono un'agenzia umanitaria sono venuti a chiederci siccome sono lì giorno e notte loro sono lì un gruppo di 20 30 persone questi ragazzi di Adra ci hanno chiesto se potevamo lasciare loro del cibo del mangime dei trasportini perché arrivano anche di notte gli animali noi non abbiamo la forza di stare lì di notte e quindi siamo molto contenti perché anche se noi oggi non eravamo lì abbiamo lasciato tutto quello che potevamo a questi ragazzi e li abbiamo visti aiutare le persone a trascinare questi valigioni perché la gente arriva queste donne sono per lo più donne ricordatevi gli uomini possono partire solo se hanno dei tre figli in su altrimenti sono disertori e ci sono disertori che ci dicono hanno pagato la frontiera dei doganieri ucraini per passare da questa parte ok li abbiamo visti anche noi altrimenti sono donne e bambini anziani e questi volontari di Adra sono quelli veramente più attivi devo dire a trascinare questi valigioni a portare i bambini in braccio accompagnarli verso i pullman abbiamo un contatto diretto telefonico con loro la croce rossa sinceramente quella che è qua non ci ha molto filato poi staranno facendo un ottimo lavoro non è una polemica per carità non voglio far polemiche però con questi ragazzi di Adra che noi non conoscevamo devo dirvi che è nata una bella collaborazione stiamo cercando adesso di accreditarci con le autorità portuali e di confine affinché anche noi possiamo collocarci all'arrivo al primo arrivo dei rifugiati e non al secondo filtro che è quello dove siamo stati in questi due giorni quindi cercheremo di ottenere questo presidio fisso e di di avere diciamo di stare lì con queste tre agenzie umanitarie che sono quelle autorizzate a stare all'interno e quindi ad accogliere i rifugiati appena arrivano dall'altro dall'altro lato e quindi lavoreremo anche su questo domani io non so cos'altro vi devo dire non c'ho più energie sono appena arrivata a casa qui sono credo quasi quasi le dieci e quindi credo che andrò a dormire subito sono qua con Alessandra che è una delle ragazze italiane che è qua con me ma ci sono anche Stella Francesca Roberta poi c'è il nostro staff rumeno ovviamente che è qua e che è presente ci aiuta e quindi insomma stiamo facendo tutto quello che possiamo ci tengo a dire questo non è un one woman show non sono qui adesso non sto facendo tutto io questo è un lavoro di squadra è un lavoro di gruppo siamo tutti affaticati perché vedere queste cose in televisione è già penoso vedere le cose il volto devastato delle persone che arrivano ascoltare le loro storie ne abbiamo sentite diverse di persone che hanno abbandonato i loro genitori in zone di guerra perché non sono potuti andare via non hanno voluto vedere famiglie distrutte con mariti che rimangono a combattere le mogli che partono con i figli per raggiungere magari dei parenti o degli amici d'altri non sanno se rivedranno i loro mariti cioè delle storie veramente atroci ragazzi la guerra è una cosa terribile la guerra è una cosa veramente terribile e io non pensavo che avrei mai che avrei mai visto personalmente una cosa gli effetti devastanti di una guerra non pensavo li avrei mai visti pensavo che le cose le cose peggiori che ho visto pensavo di averle raccontate nel mio libro che molti di voi hanno letto invece probabilmente dovrò scriverne un altro probabilmente dovrò scriverne un altro io mi auguro che l'attenzione dei media non cali io dovevo rientrare il 14 marzo sono venuta qui perché dovevo presentare al team locale il nuovo direttore generale che è un ragazzo americano quindi il mio viaggio il 28 di febbraio era un viaggio pianificato da molto tempo siamo arrivati qua e abbiamo dovuto cancellare ovviamente tutti gli impegni e riorganizzarci dovevo rientrare il 14 marzo io non rientro il 14 marzo sicuramente rimango qua almeno fino al 30 di marzo comunque non ho non ho preso nessuna decisione qui bisogna cercare di riorganizzarci e di fare la nostra piccola parte perché i miracoli non li fa nessuno facciamo il meglio che possiamo ringraziamo tutte le persone che stanno donando oggi abbiamo speso vi ho detto circa 2000 euro per fare acquisti e dovremo domani fare un ordine di mangime per rifornire la nostra struttura perché rischiamo di non avere il cibo da dare ai nostri animali però appunto preferiamo fare noi adesso quest'ordine in modo da avere le cose subito in due giorni e avere il cibo per i nostri animali e poi vi faremo sapere se possiamo ricevere anche cibo dall'estero però credeteci avere delle risorse in questo momento probabilmente dovremo comprare un nuovo furgone più grande più capiente abbiamo due furgoni vecchi che hanno 300.000 km probabilmente dovremo comprare uno nuovo solo per dirvi probabilmente queste tende abbiamo visto queste tende della protezione civile costano dai 1.500 euro tra i 1.000 e 2.000 euro a seconda magari le troviamo in donazione però noi qui è una questione di tempo dobbiamo anche muoverci in fretta e quindi dovremo dopo aver visto i fornitori rumeni che ci danno 3-4 settimane dovremo vedere in Italia chi eventualmente attraverso i nostri trasportatori dall'Italia alla Romania chi ci può portare delle tende militari o delle tende da protezione civile qua per poter stoccare materiale e accogliere cani che prima o poi siamo sicuri arriveranno ma sicuramente non è una cosa sicuramente sicuramente no che non c'enti sicuro non sappiamo quando potrebbero arrivare però queste tende in assenza di un grande hangar di un magazzino che speriamo in futuro di poter costruire sono fondamentali per poter insomma avere più spazio io vedo scorrere dei commenti ma a parte che non ho vedo una parola vedo Liliana Segre io ho incontrato Liliana Segre qualche mese fa è stato un incontro meraviglioso spero di risentirla di rivederla tra l'altro e e niente io cercherò di tenermi nei limiti del possibile informati nei prossimi giorni faccio delle piccole dirette a volte senza preannunciarle per documentarvi il nostro impegno noi vi diremo esattamente come spendiamo i soldi quindi come usiamo le vostre donazioni invitiamo tutti comunque a cercare di non perdere la lucidità rimanere comunque anche se è difficilissimo è pieno di insomma di situazioni non chiare noi continueremo a essere trasparenti come sempre e razionali come sempre nonostante mi vedete emotivamente devastata e lo sono anche le mie collaboratrici qua noi cerchiamo di rimanere lucidi di fare il meglio senza risparmiarci ma con lucidità questa è una parola fondamentale in alcuni momenti la perdiamo la lucidità ve lo dico però poi riprendiamo riprendiamo diciamo la la traiettoria e e basta spero di dormire questa notte di dormire meglio mi sto facendo aiutare un po' di chimica perché la chimica faccio tanta cioè tanta meditazione ogni mattina faccio una meditazione mindfulness respirazione però ad esempio adesso vedete io non sto respirando bene e quindi in queste situazioni qua è fondamentale anche usare la chimica almeno questo per quanto mi riguarda e niente vi saluto vi ringrazio se siete stati in tante seguirete questa diretta vedo più di 100 persone collegate e ringrazio tutti coloro che stanno rilanciando le mie dirette rilanciando i miei post i giornalisti che mi stanno chiamando ringrazio Selvaggia Lucarelli che mi ha scritto mi ha contattato che ci ha segnalato ringrazio i ragazzi di Animal House di Radio DJ che oggi hanno mandato i saluti dall'Italia ho saputo tutti i giornalisti che ci stanno che stanno parlando anche dell'aiuto agli animali questo è molto bello e li ringraziamo e tutte le persone che offrono il loro generoso aiuto non lasciateci soli perché abbiamo bisogno di sapere che ci siete vicini per trovare la forza di andare avanti in questa in questa situazione veramente veramente molto difficile anche se continuiamo a ripeterci noi siamo dei privilegiati le persone che hanno diritto a essere disperate sono quelle che stanno arrivando di qua non siamo noi che abbiamo diritto di essere disperati solo perché vediamo tutte queste immagini di morte di distruzione sono loro i disperati quindi noi siamo ancora i privilegiati e abbiamo l'obbligo in questa situazione di fare tutto il bene che possiamo fare tutto senza risparmiarci cercando di non distruggerci ma abbiamo l'obbligo veramente di aiutare questi animali e queste persone non ve l'ho detto ve lo dico adesso abbiamo dato uno dei nostri mezzi sono arrivati 25 donne con bambini qua a Cernavoda e una piccola associazione locale ci ha chiesto se avevamo un furgone per il trasporto di persone da prestare loro e glielo abbiamo dato subito in realtà noi potremmo aver bisogno di un mezzo adesso per organizzare un presidio alla frontiera ma speriamo di ricevere talmente tante donazioni da poterlo acquistare in modo da permettere a queste 25 donne con i loro bambini queste 25 persone di avere l'assistenza di essere trasportati essere trasferiti portati in ospedale c'erano tra l'altro 50 orfani bloccati in un orfanotrofio a Odessa che stavano cercando di partire ma alcuni problemi burocratici sembra che li abbiano bloccati io sono in collegamento con l'associazione locale Nightingales che ho chiesto appunto ho chiesto di mandare donazioni a questa piccola associazione che conosco sono ragazzi inglesi però abbiamo fatto la nostra piccola parte dando questo furgone mettendolo subito a loro disposizione per trasportare le mamme i bambini il materiale andare a comprare alimenti e tutto quello che serve e direi che è tutto vi mando un abbraccio e ci vediamo presto qua su Instagram con altre comunicazioni altre dirette ciao a tutti grazie